Stasera dovrei giocare con Tollo e dovrei fare un coaching a Saki Blue Sì, possiamo fare anche un po' di ASMR, ditemi come me la cavo ragazzi E continuate a darmi consigli perché sono veramente molto preziosi Vedi qui, piccola, ti faccio niente, dai, vedi qua, e ti do un vaccino Ciao Paolo, sono Marocco, come stai? Gangplank, innanzitutto complimenti per la grandissima performance che stai facendo nei mondiali Veramente tanta 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 roba Ma ho scritto sono Marco, non Marocco, ah scusami Marco Siamo pronti a un coaching ragazzi, adesso devo cambiare maschera, mi metto la maschera del coach Ciao Saki Buonasera Ciao, buonasera Come andiamo? Bene, grazie, un po' di mal di pancia, tu come stai? Anche io spesso sono mal di pancia quindi condivido questo dolore con te Meno male, mal comune, mezzo gaudio, giusto? Saggia, saggia, Saki ripresentati un po' per chi non ti conoscesse Perché da un po' che non ci sentiamo, magari riprendiamo un attimo le informazioni basi Di dove sei, quanti anni hai, cosa fai di bello nella vita, no? Per fare amicizia Va bene, allora il mio nick è Saki Blue, il mio nome è Roxana Ho 25 anni e vivo a Milano Gioco a League of Legends da circa 7 anni Pichello sono arrivata a Diamond 2 ma con molte meno conoscenze di oggi Quindi ammetto che può essere stata fortuna E quest'anno ho partecipato al progetto di McDelivery G-Gang Quindi sono entrato in un team completamente composto da ragazze Sponsorizzato appunto da McDonald's, McDelivery e Macete Gaming In collaborazione ovviamente con Clash e quindi anche con Paolone Il mio ruolo è stato quello dell'AD Carry Quindi ho imparato da zero insomma a giocare a AD Carry Prima giocavo support, adesso faccio un po' un mix Giochi sia support che AD Carry Ok, il coach disse se lo voglio vedere AD Carry quindi immagino Sì Tu AD Carry che lo hai fatto circa? Ho giocato con l'altro account, adesso sono gol 2 E io ho giocato solo AD Carry praticamente Quindi ti ritieni un Platino 4 gold alto da DC? Sì, sì, sicuramente non Platino alto quindi No, Platino 4 volevo dire, scusa Sì, molto basso Ok, ok Quali sono i tuoi personaggi preferiti? Allora, AD Carry, Ezreal mi piace molto Sì Jinx è quello con cui mi trovo meglio Nel senso che è quella che gioco da più tempo Anche quando giocavo support ed ero fillata AD Carry giocavo Jinx Perché mi sembra un po' più semplice Ultimamente ho iniziato da zero Kaisa Ok Perché attualmente mi sembra molto forte E Caitlyn non sono molto brava Cioè, lo vedo che non sono brava a giocarla Lo intuisci Sì, sì, lo capisco che non sono brava Però è anche una questione meccanica Nel senso che lo vedo che faccio male le cose Quindi Miss Fortune l'ho giocata molto Anche su consiglio di Sequoar Quindi quando era molto in meta andava molto E ho giocato molto Miss Fortune Anche con la comp che facevamo all'inizio Allora, come si chiama questo tuo account Che dovrei andare a vedere? Si chiama Alessia Roxy Ok E cosa vogliono vedere? Ezreal? Vogliono vedere Miss Fortune? Vogliono vedere Caitlyn? Vogliono vedere Jinx? Allora, secondo me un Ezreal per capire se le cose che faccio sono corrette Cioè, perché vinco spesso con Ezreal Però non so bene il perché, ecco Allora, su Discord io ti sto streamando League of Legends E iniziamo assieme questa avventura Cosa mi sai dire allora di AdiCarrie? Che dipende molto dal support Da quello che ho visto In questi mesi che ho giocato Queste sono principalmente solo queue O due queue comunque con persone che non stanno nella mia lane Quindi comunque, diciamo, in lane sono sempre da sola Allora, per me è molto difficile farmare Ovviamente è difficile anche capire Contro quali AdiCarrie vinco o perdo Più che altro sulla domanda del... Cosa fa l'AdiCarrie, no? Se dovessi dire qual è il ruolo dell'attaccante Qual è il ruolo del difenso Qual è il ruolo dell'AdiCarrie, no? Ok, allora stare dietro e fare danno Ma, cercare di rimanere in vita il più possibile E fare il più danno possibile Possiamo sintetizzarlo così? Sì Ok, va bene Allora, quando diamo il pull Sempre conviene utilizzare l'abilità Sono piccole cose Vogliamo sempre cercare di velocizzare il più possibile il pull del jungle Ovviamente cambia poco o nulla Però questo mana si ricaricherà, no? Quindi almeno una Q Io addirittura ne ho dovuto utilizzare i due A cooldown Ed è la prima cosa che devi fare, no? Perché prima utilizzi la Q Perché nel margin part, ovviamente Perché il margin non può accedere i 175 di mana Andiamo in link face E com'è questa link face? Prova a commentarla Prima di entrarci, no? Come te la aspetti? Tutti e due i support poccano molto Credo che a pushare siano più bravi loro Loro sono molto più bravi a fare all-in E io però, essendo Ezreal, credo di avere anche la possibilità di scappare con una E Quindi l'all-in di cosa stiamo parlando? Della ulti di Ashe stiamo parlando? Sì, Ashe altri Perché magari allora è meglio cambiare nel pre-6 e nel post-6 Perché pre-6 probabilmente voi avete più all-in potential con la E di Zara, no? Sì, pre-6 Zaira pusha molto e Diciamo che Zaira pusha più di Ashe e magari Luciano pusha un po' più di te Che dici? Ci sta come... Sì, sì È molto even, no? Se lo chiedessi anche tu a me non ti saprei dire chi pusha di più Io ti direi leggermente voi se Zara tira le Q bene Poi ci vediamo alcuni di Luciano in bocca Qua più che colpa tua è più merito di Luciano E invece questo... questo è bruttino, no? Perché ci mettiamo subito in condizione di perdere la lane face Questo non ti perde la lane face a questo elo Però è importante non entrare in questi pattern, diciamo Allora, prima di tutto, sappiamo già quello che sta per succedere Allora, Ashe ha il volley e di base tutta la lane face ti vorrà rompere il cazzo, no? Ha il volley, quindi di base tutto il posizionamento che vogliono avere Come c'è la Zaira, il posizionamento di Zaira al momento è perfetto Perché lì può attaccare e non è esposta Mentre tu sei esposta Ma in realtà l'errore è vero Arriva qui Quando tu decidi Questo ti attacco nemmeno tanto Ma questo passo in avanti invece sì Perché qui non vogliamo trattare tutta questa vita con la D-Carry, no? Siamo già a metà HP Siamo per assurdo già in un potenziale all-in Se loro prendono tutte le abilità Quindi cerchiamo di essere più cauti con i trade Qua ci sta a pushare E qua, come vedi, il tuo posizionamento è migrato L'unica cosa qui, probabilmente, è l'acqua di Lucian Sta per tornare l'app Se sei in linea con i Minion Potremmo rispettarlo un po' di più Non arriva e siamo contenti di questo Anche qui, potremmo stare un po' più attenti La W di Ashe non ci prende Ma loro sono al 2 Cioè, Lucian poteva tranquillamente Lasciarti in faccia e farti un bello trade Queste sono le cose peggiori Perché sono i cosiddetti falsi amici Cioè, tu avevi rischiato per circa 5 secondi E per questo pericolo che hai preso Non sei stata punita Per assurdo è un male, no? Perché non hai mai riscontrato nella realtà È come attraversare senza guardare E qua, per assurdo, sembra che abbiate il controllo della lane face Ma di nuovo, queste Q Se possiamo evitare Non lo utilizziamo Lo utilizziamo solamente per arrastare Lucian Anche queste È come una goccia, no? Non è grave Però è la mentalità che ci sta dietro Ovvero, tu non dai valore al mana È il mana su Ezreal Specialmente prima della tier È fondamentale Una E costa 90 mana Ne usi una Ha usato 3 Q Si è rovinata Ok Abbiamo pushato la wave Abbiamo preso un all-in Qua non ho mana Qui si regolla Qui c'è un carretto Ma anche se non si schianta, no? Non vale la pena Sono 4 caster Comunque nella loro parte A parte che è quasi impossibile che la frizzino Ma comunque qua investiamo tantissimo tempo E in questo tempo tu non sei un campione Sei... Cioè non hai nemmeno il mana per fare una E Cioè un minion E anche qui riutilizzi la Q E guarda un po' cosa succede qua Che vorresti fare la E Ma non hai il mana Vedi? Quella goccia di prima Adesso il secchio è troppo pesante Non riesci ad alzarlo Certo E qua Ti fai la kill Utilizzi addirittura il flash Ma Meccanicamente non lo giochi Ma il campione Qui muore forse il minion No No, non credo Comunque guarda che cosa succede Addirittura qua adesso Loro perdono tutto questo wave E di nuovo viene premiata E sono sempre le cose Però per errori loro Eh, sono sempre le cose Le cose più pericolose Dovevo ricollare prima Senza prendere il rischio Qua di nuovo Ho avuto qua fra poco però Credo di non beccare nessuno Mi sa Ma più che altro qua Guarda Non si capisce Siamo bulli o no Guarda Questo è il loro assassino E tu eri molto avanti Beh, ancora il giampino Non credo che lo sarà però Di nuovo vieni premiata Questo è male male Eh Di nuovo vieni premiata Per una cazzata Qui siamo Tanto fuori condizione Cioè dopo che tu hai fatto Questo ultimo Questo tornerà A autoattaccare E da Dovei morire Sette volte Non una O comunque perlomeno Non ti fai questa kill E invece Vieni di nuovo premiata Quindi devi stare attento Perché dopo che prendi la Q Ovviamente prendi la gradatore Comunque A fuori di mettere pressione Bam La gradatore cade Questo è un errore grave Questo che hai fatto Di push rein E di nuovo Finisce Abbastanza bene Ma Il problema è concettuale Il primo Non sappiamo Dove è il jungler Potrebbe tranquillamente Essere qua Ai crags C'è la great buff up Pure Secondo Hai preso la torre Nel momento in cui L'obiettivo è caduto Loro Sono virtualmente inutili Quella è la cosa più utile Che puoi fare adesso O di push la wave Il che non è obbligatorio O recogli Questo invece De andare aggressivi E Lucian qui Si caga addosso Ma se Lucian rimaneva A picchiarti Si sarei morta E certo Ha fatto tre passi indietro Anche questa è un'intata Perché è un'intata Perché non sappiamo Cioè non abbiamo vision Devo beccare Perché abbiamo preso la torre E oggi sicuramente Apro dei soldi in saccoccia 1.800 E basta Ci siamo solo io Io in realtà Lucian non lo vedo In teoria Ma qui di base Se il tuo jungler è morto Non vai a invadere La giungla No Un po' troppo bulletta No Infatti qui Ti si risetterà Sta roba Cringerà E dirai Ah ok Non lo faccio più Però qui la tua possibilità È ricollare E fare cosa Comprare cose E pushare vid Perché c'è l'ultima torre rimasta Puoi prepararci per il drago Make it easy Make it simple Entrambe vanno bene Perché dobbiamo investire 30 secondi La nostra vita Su sto buff De merda E' stato del drago Ma non mi aveva preso Prima la priorità Mid lane Zara E anche lei Era una vittima Del blue buff Chiamate questo Drake Innanzitutto Tu questo danno Se te lo prendi Dal resto Dal drago No Quindi devi stare lontano Doggiamo la ulti di Ashe Qui si è totalmente Tagliata fuori dal fight Vedi qualche Q Dai fastidio Anzi Oggi ho anche un buon lavoro Chiamani Terribile Guardare È il tuo Compagnio di tuo Sì Mamma mia Scarsissimo Me lo dico no Me lo dico Qui la W Non ti serviva No Perché tanto di Q Moriva Quindi che senso Aggiungerci del DPS In più Non so se ce l'avevo Però così in fretta La Q Perché Cioè Sì ma anche se Non ce l'avevi Up Quello è un overkill Ti vedi la spell Per un'altra roba Piuttosto Ma magari arriva Un altro nemico E comunque L'Opv ti fa perdere Proprio del tempo È un'animazione Che ti tiene fermo Anche questo Da arresto Quanti call dai 1.2 Si va a casa Sei da sola Sei preziosa Poi magari non succede nulla Ulti di hash up Anche qui Benedetta Alla madonna Sono tutte situazioni Dove tu Ripeto Dovresti morire E di nuovo Veniamo premiati Ma La D.Kerry Che Che puscia Mead Da solo Proprio È d'arresto È d'arresto È proprio Cioè Questa cosa Sembra bella È una merda L'unica cosa È che non veniamo Puniti Beviamo Barichina Tutto il tempo E non moriamo Sì ma non va bene Sai quando si prende I rischi Rispondimi Quando devi prendere Un rischio Quando sei in negativo E hai un 50-50 Su un obiettivo Quando non hai alternativa Se non hai Se non hai Altra scelta Se non Prendere un rischio Prendi il rischio Ma se puoi evitare Evita Tutta la vita Un professionista Riduce I rischi Al minimo Indispensabile Non li aumenta Non vuole entropia Adesso Abbiamo 1330 gold Di nuovo Si recolla Non c'è nulla Sulla mappa Base E pinghiamo il baron Dove stiamo andando? A solo killare Thing ed inside lane? Follia pura Poi magari lo ammazzi Perché questo è un cesso Ma è follia Lo fai i cecchi Missi la mia Q Fai la bulletta Lo insegui Missi la seconda Q Bam Morto Adesso sei Magicamente Botlane Ma non c'è un vero obiettivo Qua da prendere 2000 gold Stiamo giocando Eh qua forse muoio anche Non mi ricordo Flash in Altra roba dal resto Anche qui Hai preso un rischio in più Poi in realtà Qui ce la dico una cosa Stiamo provando a killare Il più forte Il loro team Kha'Zix Che ha diritto Nello shutdown Ma il tuo flash È troppo valuable Cazzo Sei l'alti carry E lui comunque Aveva anche il flash Quindi Non l'hai manco preso E qua Ci ritroviamo Appena La torre botlane E andiamo per la t3 E in tutto questo abbiamo 200 gold Vedi che stai giocando sempre Fregandote di quello che davvero devi fare E qua siete Adesso qui tutti i noi Non divengono al pezzi E qui siete come Ci arrivano tutti Ci sono due contro tre Che viene slowata Quasi contro quattro Anzi Qui uno dice Ah ok Ho fatto una cazzata Perché questa è la prima volta che Vieni punita Sull'overextend E potevi esserne punita Almeno altre Sei volte Sette volte Però questo Non ti è mai successo Quindi è la prima volta che dici Ah Ho trollato Però almeno fissatela questa Cazzo Eri alla t3 botlane Con Il più babbo di minchia Questo è 3 10 0 Hai affidato la tua vita Non lo so A un pazzo Qui è veramente difficile Shot collare Perché è tutto a cazzo di cane Cioè anche io Anche io qui avrei delle difficoltà Anche io qui avrei delle difficoltà A dire ok Cosa dobbiamo fare Però la prima cosa che ti viene in mente Qui qual è? Mettere vision al baron E giocare per il baron Qui la colletta bene E giocare per il baron vision Lo dovevo fare prima Adesso ci stiamo andando Warwick è dall'altra parte della mappa Di base questo Non si chiama Senza il jungler Però È gold Questa lo sapevamo Cioè eravamo Conosci della cosa Ci sta Però abbiamo detto Lo finiamo prima che arrivi Comunque Ok Il jungler che era morto Era morto Questa è una bellissima call Quindi vedi Anche da un punto di vista di macro Pure questa È molto buona come cosa Guarda Questo è veramente Un momento prezioso Questo poteva essere Un errore meccanico Sarei morta No Questo è il posizionamento perfetto Qui stai intando Qui stai super intando Qui hai capito che stai intando Si ci ho messo un po' Qui c'è un maggio di nuovo ad attacco Su Singed Potevamo fare due Qui ok Andiamo qui Il re le guardia Si mangia la ultimate Fano a Q di merda Abbiamo ancora la W C'è C'è C'hai questo davanti W Q Auto E Auto Auto Q Auto E' morto Lo ignoriamo Lo ignoriamo per andare Dove Per un Singed Di merda Quando sto binotto Non fa neanche così schifo Fai peeling Per il tuo altro Altro Carry Secondo te Due carry Fiddati Non shot Non bruiser E questo è anche un bruiser Babbo di minchia Guarda gli item che c'ha Tu scappi da lui Come se fossi la preda Quando sei tu il carnefice Guarda 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 Gli abbiamo fatto un sacco di danno Solo di Q Minchia E c'è ancora sta W Up Anche qui Q che non va Tutti i bersagli Che sono come Distanti Irreali E quello è lasciato a fare 1v2 E ha dovuto Usare lo zonia Ed è arrivato Un amico Ad aiutarlo E tu hai tutto Per tutto E' preso una ultimate Questa è la prima W che utilizzi Potete utilizzare 10 Dall'inizio del team fight Con 6 secondi Cioè devi proprio imparare Ma avevi visto un cinese Che giocava a Ezreal Credo di no Non lo so Ho visto dei gameplay Ma non credo Dopo questo coaching Ti faccio vedere un cinese Vabbè Vabbè 17 in Italia E' buonissimo Sì qui Intanto Perché sono di nuovo Pushando mid da sola Cioè 6 8 2 4 E cammini Mid lane Come se fossi Sing 0 12 0 Dice vabbè Si cazzi Anche se muoio Ma tu Ma secondo me Tu non capisci Tu hai idea Di quanto valga La vita Della di Gary Cioè sei letteralmente La persona più preziosa Di tutta la partita Più di Annie Questo game Secondo me Ed è morta così Guarda Nell'ombra E anche un fiore Te lo riesci a ricordare In questo momento? Lo imprimo Nella mente Tu che rega La one shot La prima cosa Nassuto qui Che devi fare E' W Che è più larga Della Q Ed è più facile Lettare Poi le fai La E In bocca Già qui Puoi fare La E in bocca E poi le fai La Q In melee Boom Però ovviamente Più velocemente Però alla fine Comunque L'hai fatto Quello che intendevo Perché proprio La one shot Chiamiamo sto cacchio Di Baron Allora Sappiamo da dove arrivano Arrivano alla topside Quello flash Appena quello flash Devi sapere Che lo stronzo Che muore Sei tu Quindi E via La E non arriva Non puoi più Sare la E A lui non mira a te Totalmente Totalmente Tu mi devi un po' Al Baron Un po' A lui Anche qui La Q Va sempre Su questi due Questo Possibilità di ittarlo 10% Questo 90 Hai preso Un Rischio Ma Non solo è fermo Guarda l'angolo Ti sembra ammissabile Uno screenshot del genere È proprio naturale Ci allontaniamo Un po' Mira al Baron Un po' Mira ai nemici Qua si fighta Non si fa più il Baron Sei l'unica Che sta facendo Il Baron Di nuovo Qua Q Un po' H Qua non ho vinto Senza di te I due compagni di squadra L'unica cosa che hai fatto È stata la ultimate Quello muore di Poison E adesso Di nuovo Un'altra flippata E in Oppela Non sapevamo Che c'era Ma Benetta Dal fiare di Di Warwick Quello sviene Che poi Per assurdo Con quella Tu gli hai levato Lo scudo Ma non l'hai Neanche fatto apposta Qui non si utilizza L'autoattacco Perché Perché l'autoattacco Lo volevi fare adesso Cioè Vedi Quell'autoattacco Non ha fatto Nient'altro Che Farti fermare Un attimo Prima E non farti Prendere Questa cucula W Capito Non è massimizzato I tuoi tanni È proprio Una vergogna Sei come fragola No 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 Sei come fragola No Sei come fragola L'ho detto Questa roba È indecorosa Non si fa È sbagliato E di nuovo Non vieni Punita No Questa roba È ancora più Wrong Stai facendo like A tutte le tue Merdate Va bene Comunque abbiamo visto Il problema principale Adesso Io Voglio Portarti In un luogo Magico Preparati eh Perché questo qui Questo vuol dire giocare a Zreal Ovviamente Zreal è un campione Meccanicamente Tostissimo Io ti consiglio Mi sforcio Però se ti piace Zreal Voglio che tu capisca almeno Cosa Cosa si può diventare Allora Guarda qua Notiamo la bellezza Guarda Quanto è in fretta Ha sparato Hai capito Il damage output Capisci Lui non pensa Lui non pensa Lui fa Lui non BAM 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 B Poi arriva Vex, dove è Vex? Vai, lascia dentro Ma perché lui lascia dentro adesso? Perché lui lascia dentro? E' convinto di... cioè sai sui danni No, c'è un'altra ancora No, c'è un'altra ancora E' fuori tutto ciò che lo terrorizza Se le pistole sono scariche e lui c'è il mitra in mano Boom, scuola americana Bam Vex è un minion, vantaggio numerico Io sono bullo adesso Allora, la capacità Tu devi acquisire la memoria Muscolare Di riuscire a Tirare spell e hittarle Senza pensare Cioè lui Se noti Ha sempre i cooldown Bassi, anche questa è in che ha fatto Ha sempre i cooldown molto bassi Qui potrebbe dire tu la flash out per quanto mi riguarda E qua continua sempre Semplicemente a focussare la front line Beh, fa una bellissima flash out Per evitare la ulti Lo stun di Renekton Che l'avrebbe ucciso E poi riprende a inseguire Una volta che le minacce sono fuori Li inseguiamo Lui li spamma Non ha paura di missare l'abilità Non pensa un cazzo Lui fa e basta Certo, poi anche se le missa comunque va avanti Certo Perché, vedi, questa è una missata È andata indietro perché sapeva che non poteva restare lì Questo non lo puoi missare Questo non lo puoi missare Quello bello Con la coda dell'occhio che si va a prendere Zeri Creare il carriere principale Un consiglio spassionato Innanzitutto Sì In autopilot Lo stai facendo In maniera Pensata Razionale Mentre ci sono alcune cose Per cui proprio Non ti è richiesto il pensiero Esempio Esecuzione Nelle combo C'è tanto poco pensiero E tanto intuito E tanta E tanta meccanica Per quello Per quello Devi giocare Training ground Ti metti con gli item 2-3 item E spami l'abilità E sei lì e ti alleni Se vuoi migliorare meccanicamente Ma è un lavoro che devi fare Con calma Poi diventerai mai Gumayusi No Ma non vuol dire che non ti ci puoi avvicinare Ragazzi Salutate la bellissima Saki Grazie Paolone Ciao chat È stato un piacere E vi mando un bacino E un buon proseguimento allora Anche a te Brava Saki Un bacione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti